il negozio inglese ciao mi chiamo matteo e oggi costruiamo un parco giochi grazie mille camioncino oh che pezzo grande oh wow grazie mille gru oh gira ottimo e là scavatore mi hai portato dei fiori grazie e questo che cos'è è rotondo ma non gira no non gira però magari oh gira oh così è anche meglio oh dei cavallini ben quattro attenzione ed ecco pronto il nostro carosello e questo che cos'è? non lo so è troppo piccolo per metterci dell'acqua ah certo è per la sabbia Matteo ma da dove prendiamo la sabbia? sì Matteo esatto da dove prendere la sabbia? beh amici la sabbia la possiamo comprare al negozio inglese Matteo ma come si dice sabbia in inglese? in inglese la sabbia si chiama sand come come? sand? si dice sand beh e chi può andare a prendere la sabbia? l'escavatore? l'escavatore? no lui non può portare troppa sabbia oh camioncino lui sì che è adatto con piacere Matteo e non dimenticare che in inglese sabbia è sand buongiorno buongiorno hello what would you like? sand per favore come with me l'escavatore 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 big stones colourful stones sand sand l'escavatore sand ok l'escavatore oooohh sand l'escavatore grazie mille e buona giornata ehi camioncino sei tornato e hai portato la sabbia che in inglese si dice sand sì ho portato la sand e adesso la scarico adesso io vi aiuto a livellare proprio così si ok ancora un momento ed ecco fatto ecco pronto grazie mille amici ed ecco qui il nostro parco giochi è ora di salutarci amici e ricordatevi che in inglese sabbia si dice sand ciao 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 ciao